Ok, benissimo. Ragazzi, oggi iniziamo la lezione ONR. Il lavoro di oggi lo chiameremo un lavoro frizzante per la mente e per i muscoli. Ok, iniziamo a fare il step dance laterale, semplice bene, allora iniziamo un braccio poi l'altro, ci riscaldiamo per fortuna il sole oggi ci riscalda io sono col maglione ma c'è chi sta in maniche corte, è un po' raggioso, mi fa freddo solo a guardarlo è un po' ragazzo, vieni qua, vieni qua, vieni qua, non ci vedete almeno fatti vedere, fatti vedere, guardate un po', è il canale di terra e io sono con il maglione, ok? No, io perché non c'ho tese, allora facciamo i movimenti belli puliti perché noi lavoriamo perfettamente, quindi voglio vedere le braccia tese come sapete fare, tese, tese, il palmo della mano gira ogni volta, ok? Ed ora andiamo a portare le braccia avanti e indietro, alle spalle, avanti e ritornano. su questo andiamo a estendere dietro le gambe, perfetto, così, poi voglio ridurre, è un blu, è tutto sbio, bene, ancora, ed ora, avanti, avanti, dietro, dietro, avanti, avanti, dietro, dietro, bene, ancora, l'ultima volta, adesso fuori, fuori le gambe, fuori le gambe, benissimo, quando le gambe le portiamo fuori le braccia vanno avanti, e poi adesso che facciamo? portiamo fuori, fuori e poi avanti, avanti, fuori le gambe e poi avanti, benissimo, così, e là, ancora, una cosa positiva è che si allungano le giornate, abbiamo il sole, quindi possiamo anche posticiparlo un pochino per facilitare chi lavora, ancora, l'ultima volta, benissimo, ok, adesso chiudo le braccia, stop touch, apro, chiudo le braccia flexe, quando si fa questo movimento? anche qua, è un movimento semplice, ma vanno rispettati i piani di lavoro, i piani di movimento, quindi, il gomito è all'altezza delle spalle, l'avambraccio è verticale, ok, apro e chiudo, apro e chiudo, questo è il movimento, questo è il lavoro che andiamo a fare, le braccia, le braccia si aprono e si chiudono, quando chiudo le braccia, i gomiti si toccano, si toccano, così, io no, fatemi vedere, e rimango con i gomiti addotti, quindi i gomiti uniti, rimaniamo così, cioè, a qualcuno è il buco, rimango, rimango, e i gomiti in altezza spalle, gomiti uniti in altezza spalle, fermi così, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, stiamo ancora riscaldando, eh, le nostre articolazioni, ora, tra poco faremo un lavoro di semplice coordinazione, parti superiori, inferiori e insieme, ok, hop, in seguito, via, apro, chiudo, apro, chiudo, si sentono i pettorali? Sì, sì, io sento pure le braccia, Elena e Patrizia sentono le braccia, ancora, ancora, adesso piccola adduzione, via, piccola adduzione, non so se per effetto che manca la cittola, si, io sento pure le braccia, ma non so, ma io ti distrutto, ancora 4, ancora 3, ancora 2, ancora 1, rimango, gomi distretti, piccoli, giù su, giù su, giù su, ah, uh, qua, 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 si sentono tutti, via, hop, 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 dai, gli ultimi, 4, 3, 2, 1, e oscilliamo, lasciamo libere i braccia, gli arti superiori, i pettorali, i morbidi, ci conosciamo un braccio per l'altro, oggi faremo un po' di coordinazione, semplice, ma coordiniamo, quindi la mente la attiviamo, sapete perché così distogliamo? La nostra attenzione da quello che è negativo, da tutte le notizie brutte che sentiamo, ah, sì, e stop, perfetto, portiamo le mani alle spalle, semplice, andiamo a estendere un braccio e poi l'altro, bene, allora vi ricordo questo movimento alternato perché prima che parte un braccio subito l'altro si estende, ok? alternato, adesso andiamo a fare un movimento successivo, mani alle spalle, estendo un braccio e poi l'altro, quando ritorna uno parte l'altro come se fosse una staffetta, hop, hop, estendo solo il braccio, la spalla rimane indietro, il braccio si estende e la spalla rimane indietro in basso, sguardo avanti, evitiamo i compensi, cioè i movimenti anomali, ok? Benissimo, bravi! Paola, valla più fissata! Si sta rilassando Paola! Generalmente è riuscita a essere con noi, quindi noi siamo contenti. Allora, adesso andiamo a fare il movimento singolo, singolo, doppio, singolo, singolo, doppio, perfetto! Singolo, singolo, doppio, bravi! Singolo, singolo, doppio, benissimo! Questo lo ripeto sempre per gli amici che ci seguono da casa, il movimento lo andiamo a fare non con un numero preciso di ripetizioni, ma facciamo in modo che tutto il gruppo esegua il movimento correttamente, ok? Facciamo il movimento, ci guardiamo intorno, vediamo che lo facciamo senza pensarci tanto. Vedo! Questo appena indietro lo guarda noi in tanto! Lo perde, però non ci preoccupiamo perché noi siamo pazienti e siamo qui proprio per memorizzare, per simulare. Ok, bene, ci siamo, l'ultima volta, hop, hop, benissimo! E là, ed ora fuori il braccio, fuori e fuori, fuori e fuori, fuori e fuori. Proviamo a fare l'alternato, semplice, così, ta-ta-ta-ta. Bene! Vedete che qui il braccio parte prima che arrivi l'alternato. Questo è un movimento alternato. Ok, bene! Per sentire la flessa e stenzione che sia un movimento completo. Non è che il mango sempre con le braccia flesse così, ma uno si estende, l'altro si flette, quindi via! Bel movimento pulito. Pusseretto, sguardo avanti, spalle basse. Ok, adesso andiamo a fare il movimento singolo, singolo, doppio, ok? Singolo, singolo, doppio, là. Singolo, singolo, doppio, perfetto, così, hop, hop, là. Benissimo, singolo, singolo, doppio, bene. Singolo, singolo, doppio, benissimo, bravi! Ancora, vedo Fausto, mi confondo pure io, ancora, non guardo Fausto, ancora, guardo Paoletta, va? Ancora, su, 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 puoi pure Cristiana, eh? Bene, ancora, bene, ancora, hop, hop, doppio, l'ultima volta, singolo, singolo, bene, ok. Proviamo a affinarli tutte e due, avanti, avanti, singolo, singolo, doppio, singolo, singolo, doppio, fuori, 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 pronti? Io inizio col mio braccio sinistro per chi segue da casa e quindi voi a specchio iniziate col destro. Pronti? Via, e singolo, singolo, doppio, ancora avanti, singolo, singolo, doppio, adesso fuori, via, singolo, singolo, doppio, bene, singolo, singolo, doppio, avanti, via, hop, hop, doppio, benissimo, singolo, singolo, doppio, adesso fuori, via, singolo, singolo, doppio, perfetto, singolo, singolo, doppio, Ancora, ancora avanti, via, dai che stiamo andando alla grande, e là, ancora, ancora, hop, bene, adesso fuori, dai, dai, doppio, benissimo, singolo, singolo, doppio, ancora una volta, avanti, singolo, singolo, doppio, perfetto, singolo, singolo, doppio, avanti, fuori, hop, 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 ciao Marco. Ancora l'ultimo, dai, hop, e stop, bravissimi, ok, abbiamo fatto il lavoro per le braccia, adesso andiamo a fare il lavoro delle gambe, fuori le gambe, semplice, fuori, vi ricordo anche qua, la gamba si eleva lateralmente, che la punta di maniera avanti, per stimolare la parte esterna della coscia, femore, ok, quindi il femore non va in extra rotazione con la punta su, ma con la punta avanti, ok, bene, il busto è sempre retto, chiedi, che hai già detto fiero nella vita, respiriamo profondamente, ok, proviamo a farlo, singolo, singolo, doppio, singolo, singolo, doppio, dai, singolo, singolo, doppio, bene, singolo, dai Marco, ti aspettiamo, singolo, singolo, che qui Fausto vuole rinforzi, adesso anche Simone come rinforzi, vai, vai, bene, ancora, ciao Simo, bene, ancora, dai, dai, hop, bene, l'ultimo, bene, ora indietro, via, dietro, dietro, solo dietro, ciao, Marco, guarda che gentile Antonella, ha lasciato il posto per te, eccoci, buonasera, scusate, scusate il ritardo, tranquillo, tranquillo, mi raccordo, mi ha intrappolato, oggi stiamo facendo una lezione, stiamo facendo un giro in macchine, e di muscoli frissanti, allora, siccome, adesso ti sei perso la prima parte, però, adesso la vedi tranquillamente, li vuoi mettere lì così mi vedi meglio, io faccio singolo, singolo, doppio, Siamo pronti? Solo le gambe adesso, singolo, singolo, doppio, iniziamo con la vostra destra, bene, doppio, ok, singolo, singolo, doppio, ancora, singolo, singolo, doppio, ancora, ricordiamoci che la gamba d'appoggio si semipiega, è importante per molleggiare, se vi ricordate, le nostre articolazioni sono i nostri ammortizzatori, quando vedo che tutto il gruppo va alla grande, cambiamo, inseriamo il movimento fuori, ok, bene, bene, dai, gli ultimi due, singolo, singolo, doppio, bene, singolo, singolo, senza arcare la schiena, benissimo, e adesso facciamo fuori, via, fuori, fuori, doppio, bene, fuori, fuori, doppio, ancora, fuori, fuori, doppio, ancora, singolo, singolo, doppio, ancora una volta, singolo, singolo, fuori, ora dietro, singolo, singolo, non arco la schiena, singolo, singolo, doppio, dai, non arco la schiena, contragolo addame e glutei, morbidi nelle ginocchia, dai, ancora, singolo, singolo, doppio, bene, singolo, singolo, doppio, gli ultimi due ancora, singolo, singolo, doppio, l'ultimo, singolo, singolo e fuori, via, fuori, fuori, doppio, fuori, fuori, dietro adesso, dietro, dietro, doppio, dietro, dietro, doppio, fuori, via, hop, hop, bene, ancora, hop, hop, bene, l'ultimo, dietro, dietro, doppio, dai Fausto, dai, hop, benissimo, ah, sattacci ù, coordinazione, quindi stimoliamo il cervello, esatto, guardiamo giovani nella mente e nel corpo, ragazzi, bene, adesso, facciamo il movimento fuori fuori con le braccia e poi dietro quando le gambe vanno indietro le braccia vanno avanti prima fuori e poi dietro le gambe avanti le braccia proviamo quindi è fuori doppio fuori fuori doppio e poi dietro le gambe e l'avanti il braccio ok ok bene e fuori fuori doppio dai fuori fuori doppio adesso dietro la gamba avanti il braccio bene adesso fuori via fuori fuori doppio ancora fuori fuori doppio adesso dietro la gamba avanti il braccio dai che ci siamo sono orgogliosa del gruppo dai dai su ancora ancora dietro dai dai l'ultimo giro fuori fuori doppio dai fuori 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 doppio dietro adesso fuori doppio dietro adesso l'ultimo hop ah benissimo allarghiamoci 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 apriamo le braccia via 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 adesso vi chiedo troppo che facciamo un lavoro ancora simile ma differente facciamo un lavoro al contrario quando estendiamo fuori la gamba per me è la sinistra ma per voi è la destra e stendiamo il braccio opposto quindi ecco e allora questo proviamo lo facciamo lento fuori fuori doppio esatto fuori fuori doppio adesso dietro hop hop bene ancora hop hop dietro hai ragione bravissima bravissima brava pronti no no grazie pronti grazie 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 ragazzi allora proviamo via e hop hop doppio ancora e hop e hop e là benissimo adesso hop hop bene ancora bene fuori 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 ancora hop hop dai ancora e hop hop dai ancora hop hop dai piano piano fuori fuori dai che ci siamo fuori fuori dai ancora e hop e hop bene ancora hop hop ancora proviamo ad accelerare fuori 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 doppio dai fuori 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 doppio ancora e hop hop doppio ancora hop doppio e là benissimo bravi leghiamo le braccia ok dopo che abbiamo fatto frizzare il cervello andiamo a far frizzare i muscoli prendiamo una pizza prendete una pizza una pizza io non do una piccola le grandi le lascio a voi ok vediamo che mi lasciano la pizza pesante o la pizza del cervello la pizza pesante allora Allora pieghiamo le gambe Allora Allora gambe semi piegate Piego e allungo Quando andiamo su non dobbiamo stare Con il busto inclinato, storti, ruotati Stringo, stringo Allungo tutto, vogliamo toccare il cielo Ok? Prendo E soffio Prendo aria e soffio Prendo e soffio Prendo i talloni a terra Stringo i glutei Soffio Allungo le braccia Allungo le braccia Le porto al petto Su Dai Su Ancora Dai che ci siamo Busso dritto Su Ancora Stringo i glutei Ancora 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 Rimango con le gambe semi piegate E stendo e fleco Bene Stendo Gomi distretti Soffio 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 Ancora Molto bene Molto bene Ancora So 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 Benissimo Adesso impugno solo con un braccio Hop Vai So Dai Hop Bene So Dai Hop Vai Hop Vai Spingo Spingo So Il braccio Fa da bilancia So So Con la cinque Dai Quattro Tre Due Uno E cambio Pronti? Via Hop Dai Hop Dai Hop So Hop So Bene Ancora E su E dai Ancora Plette stendo Hop Bene Bene Su Dai Gli ultimi cinque Quattro Tre Due Uno E là Pizz al petto Pronti? Spingo Prendo Soffio Prendo Soffio Prendo Soffio Prendo Soffio Prendo Aria Soffio Ancora Su Bene Le spalle basse Spalle basse Ancora Evitiamo l'iperistensione dei gomiti Evitiamo le botte Ammortizziamo Perché adesso che siamo giovani Ce lo possiamo permettere Ma vogliamo arrivare In vecchiaia Che siamo ancora capaci Che siamo ancora In forma Energici Vero? Vero Vero Oh Così Bene Ed ora Rimango Piego le gambe Pronti? Stendo Stendo Via Dai Due Dai Tre Dai Quattro Dai Cinque Piego le gambe Sei Sette Otto Nove Dieci Ancora Dai Dai Due Dai Tre Dai Quattro Dai Cinque E là Piego le gambe Inclino il busto Semplice Fletta estensione Tiro Dai 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 Bene Dai Su Dai Su Dai Piego le gambe Cora Su Cinque Quattro Tre Due Una Rimango Spalla Retroposizione Gomito Indietro Stendo Solo L'avambraccio Non il braccio L'avambraccio Hop Due Tre La spalla Indietro Quattro Non vai in avanti Cinque Sei Sette Otto Sentiamo Dietro il precipito Nove Si sente Dieci Uno Se non lo doveste sentire Due Vuol dire che se siete troppo Estendete poco Quattro Cinque Hop Bene Estendo Estendo Da qua Estendo Non vado Non vado a flettere Dalla verticale Estendo Quindi faccio solo Una parte del movimento Rimango Mi assicuro di avere la spalla indietro Traci In linea E stop Cambio dall'altra parte Pronti? Via Hop Bene Tiro Vai Tiro Tiro Ancora So 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 E ancora L'ultimo Cinque Quattro Tre Due Oh no Fermi qua Dorso è piatto È piatto La spalla è indietro Vedo una schiena un po' così Pronti? Estendo Hop A Due Hop Tre La Quattro Hop Cinque Hop Sei Hop Sette Blocco Otto Blocco Nove Blocco Dieci Dai Hop Blocco Due Blocco Tre Mi chiedo sempre la spalla dove sta Quattro Perché se ne va per conto tuo Rimango Spalla aperta Aperta Avambraccio esteso È vero che è esteso? Sì 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 E Stop Benissimo Ok Pronti? Adesso La pizza La mettiamo a terra Un secondo Andiamo ad allungare il nostro precipite E poi Prendiamo i tappetini E ci mettiamo a terra a fare gli ordominali Publiqui Allendiamo adesso E cambio L'altro tiro Ok Lo sguardo dov'è? Di fronte Brava Ok Perfetto Ed ora A terra Ce l'hai il tappetino? Sì Fantastico Allora Prendi il nasciucamano che li chiedo Attenzione alla borsa Che poi cade E poi la ripresa va per questo su Bravissima Ok Staccala Staccala Alla borsa Bene Allora Di fianco Decupito laterale Allora Inclino il bacino Indietro Come al solito Ci appoggiamo Sulla parte Del grande ventre muscolare Del grande gluteo Quindi un pochino inclinati indietro Non sul trocantere Dobbiamo stare comodi Non dobbiamo soffrire nella vita Adesso Gambe tese Le solleviamo Quindi già sentiamo che gli addominali obliqui si attivano Ok E da questa posizione con il braccio Che lo appoggiamo qui per stabilizzarci Per ancorarci E teniamo la spalla indietro Ok Sempre per evitare i famosi compensi Andiamo a elevare le gambe Su Tutte e due E giù Un pochino Benissimo Su Uno E ritorno O due E ritorno Di lato Appoggia di lato Tre Sul gluteo Quattro Cinque Piano piano Sei Benissimo Sette La Otto La Nove La Dieci Ancora Uno Si sentono i fianchi Due Gli obliqui Tre Ancora Quattro Dai Cinque La Sei La Sette La Otto La Nove La Rimango su Rimango su Perfetto Da questa posizione Guardate bene I piedi a martello Le punte rivolti in avanti Le punte rivolti in avanti Andiamo ad abdurre Solo la gamba che è più in alto Tesa Piccolo movimento Su Giù Piccolo piccolo Uno Bene Due Tre Quella sotto è sollevata Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Gamba tesa Dieci Piano piano Marco Uno Con calma Due Tre Quattro Mettiti un maglione Marco Cinque Gamba tesa Sei Sette Mettiti un maglione Otto Che meglio Nove E rimango Ora adduco quella che è in basso Via Uno E Due La Tre La Quattro La Cinque Dai Sei Sette Otto Dai Nove Dai Dieci Bene Nove Su Otto Dai Sette Dai Sei Su Cinque Voglio vedere la gamba che si muove Quattro Tre Due Così Uno Rimango E Sto Bravi 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 Ok Qui Siamo Siete stati tutti perfetti Voglio vedere da casa Ragazzi Iscrivetemi Se non mi iscrivete Capisco che mettete like Solo per dire ok Ma non la fate La lezione Soprattutto non barate Cambio dall'altra parte Pronti Pronti Braccio teso Gambe tese Riammattello Bacino leggermente inclinato Posizioniamoci Una volta che abbiamo stabilizzato la posizione Trovato il punto d'appoggio Con facilità le gambe si sollevano Senza fatica Via Su Uno Vai Due Tre Le gambe un po' più avanti Antonella Quattro Guarda di piedi Cinque Sei Ancora di più Sette Così va meglio Otto Nove La senti la differenza Dieci Uno Due No La Tre Quattro Cinque Sei Sette Gambe tese Otto Ancora Nove E la Fermi Sollevo quella sopra Via Uno Dai Due E tre La Quattro La Cinque Piano Sei Sette Otto Respiro Nove Dai Dieci Ancora Uno La spalla aperta Due Ancora Tre Dai Quattro Cinque Sei Dai Sette La Otto La Nove La Bene Fermi Quella sotto Uno Dai Due Tre Gamba tesa Quattro Dai Cinque Sei Piano martello Sette Otto Nove Dieci Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Mettiti così Sette Più inclinato col bacino Otto Nove Rimango 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 E stop Bravi Schiena a terra Gambe flessa al petto Schiena a terra Gambe flessa al petto Mentre le gambe Lavorano Quindi lavorano i quadricipidi Lavora l'addome Mentre il tratto lombare è tranquillo in appoggio Sta in vacanza e si riposa Andiamo a lavorare con le braccia Quindi pizza o peso Quello che abbiamo a casa Lo impugniamo Lo portiamo al petto Teniamo la nostra pizza A casa se abbiamo le bottiglie Il ferro da sfido Lo zaino Quello che avete Bene Al petto Benissimo E a questo punto Andiamo semplicemente a spingere in due tempi Sulle braccia In due tempi ritornano Hop e hop Spingo Spingo Giù Giù Fuori aria Fuori aria Ritorno Ritorno Gomiti stretti La Hop Hop So So Giù Giù Stessa cosa Anche qui Quando arriviamo a fine corsa Attenzione al gomito Povero gomito Delicato Fate le carezze Alle vostre articolazioni Ancora Che i muscoli Lavorano lo stesso Bene So So Bene Dai Hop E là Via So So Giù Giù So So Giù Giù Spingo Spingo Bene Ancora So So Dai Ancora Fuori aria Fuori aria Bene Dai Ultimi due Hop La La L'ultimo Singolo Via Singolo E Doe La Morbido Tre Morbido Quattro In realtà Non ci dovrebbe essere nessuna pausa nel movimento Cinque Deve essere fluido Sei Senza svellerare Sette L'importante è arrivare all'estremità Otto E ritornare senza pausa Nove Piano Dieci Piano Uno Perfetto Due Ancora Tre Dai Paoletta Solleva le gambe Quattro Le ginocchia sono addotte Cinque Sei Sette Otto Nove Rimango a metà Rimango a metà Bravissimi Poi domandiamoci Lombi Dove sono? Sono a terra Benissimo Allora possiamo andare a continuare I gommi di lì stringiamo Facciamo il nostro classico Semplice Tricipite Via Stendo Il ritorno Piano Via Su due Il ritorno Vi ricordo che l'omero Rimane perpendicolare Rispetto al pavimento I gommi di sono La larghezza delle spalle Quindi passo normale È il tricipite che andiamo a sentire Ancora Quindi Fausto Porta i gommi di un pochino più Verso la tua testa Allontana i gommi Dalle ginocchia Bravo che le ginocchia le hai portate più al petto Ma i gommi di allontanali dalle ginocchia Vai Stendi e fletti Così vedi Lontano Ok Forza Cristiana Gli ultimi tre Gli ultimi due L'ultimo Rimango a metà Si sentono i tricipiti Bene Ancora Rimango 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 E stop Appoggio un piede Appoggio l'altro Le braccia ritornano Benissimo Ok Un bel respiro Profondo Tranquillo Tranquillo Siamo Adesso che cosa andiamo a fare? Le gambe ritornano in posizione Prima una poi l'altra La pizza la portiamo su Andiamo semplicemente a fare delle aperture Con il passaggio della pizza Da una mano all'altra Quindi passo E apro Apro Passo Apro E la E tre E la E quattro E la E cinque E la Sei Ancora Sette Ancora Otto Ancora Nove La Dieci La Op La Due La Tre La Quattro La Cinque La Sei La Sette La Otto La Nove La Rimango Fermi così Fermi Uno Fermi Due Tre Quattro Cinque La testa appoggiata Sei Sette Otto Nove Dieci Cambio Gira la mano Fausto Palmo verso il cielo Uno Due Tre Domandiamoci Quattro I lombi ci sono Cinque Terra Sei Sette Otto Nove E stop Pausa Ah Ben Ben respiro Benissimo Facciamo riposare gli arti superiori Pizza sull'addome Parte bassa Semplice Semplice Con le gambe Andiamo solo a sollevare il bacino Un pochino su Un pochino giù I piedi leggermente divaricati Anche le ginocchia leggermente divaricate Retroversione del bacino Teniamo la pizza Sull'addome Andiamo a fare piccoli Piccoli Su Piccolo Un piccolo movimento Su E giù Ok Su E giù Soffio E ritorno Soffio E ritorno Soffio E ritorno Ricordiamoci la respirazione Abbinata al movimento Solo il bacino Solo il bacino Brava Patrizia Su E giù Su E giù Sollevo Abbasso Sollevo E abbasso Ancora Benissimo Bene Ancora Ancora Rimango sui Contrazione isometrica Sento i gluti attivi Ma non solo Vado Vado semplicemente a Tenendo i piedi fermi A divaricare Su delle ginocchia Divarico E chiudo le ginocchia Il bacino sempre retroverso Apro Chiudo Apro Chiudo le ginocchia Il bacino sempre su Divarico E adduco Abduco Adduco E abduco Ancora 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 Le prime volte che dicevo Adduco Abduco Adduco Abduco A un certo punto lo dicevo Così veloce In maniera così automatica Mi sembrava di parlare Arabo Adduco Abduco Ho detto Mamma mia Ancora Ancora Le prime Cinque Quattro Tre Due Uno Rimango con le ginocchia divaricate I piedi piantati a terra I piedi piantati a terra Solo le ginocchia divaricate I piedi piantati a terra Piante e piedi a terra Fausto La pianta Giù Ok Stringo tutto Stringo 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 Adesso che cosa andiamo a fare? Abbasso il bacino Abbasso il bacino Chiudo le ginocchia Sollevo il bacino divarico le ginocchia Faccio questo movimento Abre Giù E poi giù E faccio il movimento circolare Quindi su Bacino divarico Scendo Scendo E chiudo Quindi su Su Sul bacino divarico le ginocchia Abbasso il bacino Chiudo le ginocchia Sollevo Divarico Abbasso E chiudo Bravissimo Così su Molto bene Ancora Bravi Su E Via Su E La Le ginocchia fanno questo disegno Si circonducono in fuori Così E La Adesso l'esterno E ancora Bene Si sentono i glutei? Solo Simone senti i glutei? Senti tutto Anche Antonella e Fausto? Cristiana, Paolo, Marco, Antonellina, Patrizia, Elena che ci raccontate da casa che ci dite? Scriveteci 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 E La Attenzione adesso è il contrario Quindi bacino basso Divarico le ginocchia Sollevo il bacino Chiudo le ginocchia Via Giù E So Ragazzi copritevi Se avete una felpa Un giacchetto Perché adesso la temperatura si sta passando Il sole se ne sta andando Quindi copritevi Ancora ce l'hai Cristiana? Un giacchetto? Ancora chiudo Ancora So Si sentono? Ok Bene So Facciamo gli ultimi 5 Gli ultimi 4 Gli ultimi 3 2 1 Fermi so Fermi so Attenzione Attenzione Occhio eh Adesso Estendiamo Una gamba Quando scende Di questa posizione Guardate un po' In quel lemori paralleli Fermi così Siamo così Perfetto Fermi Fermi qui Ora ancora Fermi In questa posizione Bacino retroverso Tac Stringo Nascondo i glutei Anche se sono fermissime Adesso mi nascondo Sì Andiamo ancora più belli Esatto Esatto E appoggio Il bacino Ok Sollevo l'altra gamba Un attimo Di 3 Via Su Ripeto con l'altra gamba Forza Fermi là Stringo tutto In linea Stringo tutto Guardate Perfetto Adesso l'esecuzione Di Simone Perfetta Dorsi Plessione del piede Proprio per fare Un lavoro Certosino Ok Ancora 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 Bravissimi 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 E stop Piano piano appoggio E là Ok Solleviamo la gamba La prima che ha lavorato Adesso la teniamo completamente verticale Tac E da qui andiamo a sollevare E abbassare il bacino Su E giù Vi ricordo che si alza il coccige Poi il sacro E poi i lombi Poi si appoggiano I lombi Poi il sacro E poi il coccige Fatemi vedere la sequenza Poi un'altra cosa Quando facciamo questo movimento Le anche Tendono a sbilanciarsi Perché hanno solo un appoggio Quindi sta a noi Pensare all'esercizio Che stiamo facendo Alla cena Al pranzo Alla colazione Al fidanzato Al marito Al compagno A quello che volete Ci pensate dopo Adesso pensate all'esercizio Al movimento Alla corretta esecuzione Rimango su Rimango su E il piede appoggiato Bravi 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 E giù Ok L'altra gamba Dopo facciamo stretch Allungiamo Pronti Lento Su E giù Via Pieda a martello Su E giù Graduale Gradualmente salgo Gradualmente scendo È un lento Degradare E sollevare il bacino Benissimo Benissimo Ancora su E giù Via soffio E giù Soffio E giù Ancora soffio E giù Bene soffio Si sente? Benissimo Ancora 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 Ottimo L'ultimo Premi qui Si sente Si sente Si sente E stop Appoggio E stendo L'altra gamba La impugno E semplicemente La tiro Ormai sappiamo Che impugniamo Sotto Non il piede Ma sotto In modo da tenere Le spalle indietro La testa appoggiata Vero Fausto? Vero Fausto? La testa a terra Cosa? Ha un coraggio Ha un coraggio Si sente Un uomo forte Un uomo temerario Così Li vogliamo Gli uomini Forti Temerari Non togli la felpa Allora? No 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 Se non va male Ancora E Attenzione Questa gamba Si incrocia Incrociamola Pletto 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 Ok Semplicemente Tiro La pezzola Possiamo togliere La portiamo al pezzo E impugno Questa gamba Ok Vai Così Come di Tira Oddio 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 Stare al posto Di sicuro Adesso Ah Allora Quando stiamo In questa posizione Sentiamo girare Per i borne Glutei Eccetera Eccetera Alla testa Il collo Adagiati Rilassati Trapezi Morbidi Tavorano i principiti La parte superiore È delicatamente appoggiata E ci guardiamo Questo momento Di allungamento Defaticamento E rilassamento Muscolare Ok Ed ora Sempre fermi Così Andiamo a estendere La gamba Che possiamo estendere Quindi via da martello Fermi così Fermi così Tidiamo Eccetera Eccetera Grazie a tutti. 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 Allungo le braccia, appoggio un braccio di lato, allungo l'altro. Ok. Allungo, finissimo, appoggio pure il gomido, facciamo tirare tutto il fianco, respiro profondamente, distendo, allungo. E sempre su, da l'altro avanti, allungo l'altro. e su allungo un braccio, allungo l'altro, un braccio, l'altro, un braccio, l'altro, e la è d'ora, grazie ragazzi, ci vediamo, che bell'applauso, grazie a tutti, grazie ragazzi, alla prossima, ciao a tutti, alla prossima, sempre alla push up!